Cosa ne pensa della fiera di quest'anno? Secondo me quest'anno è molto più costruttiva rispetto agli altri anni, perché vedo molti stand molto interessanti e ci sono dei prodotti nuovi. È sempre un piacere venire qui in fiera, perché è una vetrina per vedere nuovi modi di ambientarsi, di vivere la società. Quest'anno molto meno dell'anno scorso, perché abbiamo notato che come standisti sono di meno, non sono arrivati quelli dell'anno scorso e l'affluenza dell'agenda è pochissima. Questo è tutto. Speriamo nel fine settimana. Ma come organizzazione zero. Perché? Perché siamo sempre alla solita. Già per arrivare qui in fiera, segnaletica, non ne parliamo. Dalle piccole cose si va alle grandi cose. Abbastanza bene, c'è sempre meno gente col passare del tempo, però si lavora, almeno noi lavoriamo perché le caramelle piacciono a tutti. Meno che l'anno scorso, ma almeno uguali. La gente sta comprando? Depende dei giorni, giorni che sì, giorni che no. Rispetto agli anni scorsi non noto grandissime differenze, però è una bella fiera, c'è tanta gente, ci si diverte. Per noi è una bella cosa, c'è da vedere, ci sono tante cose, sono cose stupende. Siamo un gruppo, veniamo con il bus, ci divertiamo, siamo di brindisi, è bello. Per noi la fiera dei Levante è una cosa importante. Valla questo anno non bene, anche il primo anno è la più gente, e questo anno è poco gente. È più bella delle altre. Cosa c'è di più rispetto agli anni scorsi? C'è di tutto, invece le altre volte no. Andiamo sempre alle nazioni, che è una cosa che è carino vedere, perché non troviamo da noi. È una bella cosa per mostrare che anche noi dalla Bassitalia possiamo organizzare qualcosa di buono. La ritrovo più adeguata. Sta facendo acquisti? Adesso sto cercando di vedere, poi vediamo. Meno flusso, la gente compra di meno comunque rispetto agli altri anni, sempre di meno. Bella, assortita. Anche se comunque rispetto agli altri anni è diminuito molto sia l'assortimento ma anche la presenza di tecnologia, di cose che forse sarebbe meglio vedere anche in queste strutture. Non lo so, prima era un po' più grande, adesso si è un po' ristretta, però veniamo lo stesso, sono delle novità e quindi veniamo a vederle. Scarsa, poca gente. È uguale a quello di tutti gli altri anni, io vengo in fiera da 40 anni, quindi. Le vendite vanno molto bene, il che è bello, è una buona cosa, credo, anche per l'economia bariese. E niente, quindi mi sto divertendo, divertente. Un po' stancante, però tutto bene. Un po' stancante. Un po' stancante.